Paganini non ripete Allora tu l'hai dato il biglietto da visita No, allora il fatto è questo, che lui è un ragazzino E' simpatico Lui è un bestione Lui è un bestione, abbiamo già detto noi che Lui è un bestione da monta L'abbiamo definito così Ma è solo muscolo Lei ancora non ha capito Non lo fa neanche bene perché ci vuole il cervello per fare come cosa Bravo, aspetta Per fare certe cose anche no Ma anche no Bene, allora salute Io non ce l'ho Eh, can't wait Panico